Abbiamo provato tutte mesi di presidio, manifestazioni, azioni penative e per tutta risposta l'ultimo chiedevo da parte che sono installato il suo ordinario e il Stato voglio di impagnire alla delegazione di cittadini, di istituzioni locali, di uno stituto di un arano e dei nostri tecnici di poter visionare quello che sta avvenendo nella rete scala del suo libro. Ovvero nel permesso della selva di Cagliaro dove voglio installare una rete di scala con la 700.000 tonnellate. Quella storia nostra e ci voglio impagnire di vedere qui cosa stanno facendo dentro. Da soli, gli uomini vogliono di scala che mi sento a scala di incontro e di quella di Stagliari del Stino, c'è la piccola lunga su cui la cristina l'ho avuto in lavoro, ha fatto una commissaria straordinaria e non deve utilizzare una violenza della tenda, un avvenimento dell'aria e delle donne qui per la terra, che è terra nostra, la rimaniamo e ci stiamo facendo resistenza, resistenza non troppo in posizione di chiacchia di padre, del governo Pagliuscovi, del sottosegretario San Tavaggio, di portogli da Giorgolino, che sono i principali responsabili nel disattore di una commessa di superstaterno. Pagliuscovi, noi oggi chiediamo, come c'è la gente da mente, se avrebbe una questione di 50 cittadini, forse entrare all'interno della Cava, per verificare lo Stato del Muretto. Questa è una manifestazione pacifica, perché la c'è uno scelto di più di una volta. L'unica violenza che è stata permetta qua è quella fatta dal governo, non c'è solo le votazioni locali che stanno resistendo alla vergogna. E' di tutta risposta, tra la Cina, mentre poi, partiamo qua, a Chiamano, la metropolitana, per indicare la struttura tecnografica e creativa, con cui vorremmo aprire questo corteo, degli strumenti di difesa, che sono la bomba-piuma e il flessilas, un gruppo di carattinieri, di quattro garanti, mitragliette a pistola in pugno, ha fermato il camion, ci hanno sequestrato i telefoni, ci hanno preso i documenti, ci hanno sequestrato l'impendente della strada, senza dare nessuna spiegazione, tra l'infredulità e soprattutto tra la solidarietà dei cittadini di Largo e da Rocco, che hanno assistito a questa scena vergognosa. Da più di tre ore, tre persone sono state sequestrate all'interno della caserma di Forso Vittorio Emanuele, la caserma Caraccio, e sono stati enti denunciati, sono da pochi minuti, sono stati rilasciati e adesso raggiungeranno questo corteo. Noi abbiamo sempre dimostrato il massimo della responsabilità. Ancora una volta, gli responsabili sono il governo centrale e le istituzioni locali, che anche di fronte a una manifestazione di cittadini e cittadine che in maniera creativa voleva semplicemente difenderci con dell'innocuo con una rumba e con i plexiglass, ci ha fatto sequestrare per tre ore dai carattinieri che ci hanno fermato con pistole e mitragliette e puntate. D'360, 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 D'360. SVEX! 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 Grazie a tutti. Pianco di questo canacino dell'amplificazione e davanti all'astriscione a mettersi al biglietro dell'astriscione. Lasciamo che il fotografi mostrano a riprendere conti per interessa l'astriscione e tutto il corneo. Andiamo a collaborare tutti quanti, dietro all'astriscione, grazie, dietro all'astriscione. Vi ho saltito on the night to chill out 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 the night. Let me know, the night and night to my life, I can hear about my life I to go in front of you as a maiden, but I can hear our love è! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.